Ciao ragazzi e benvenuti sono Leferri ed oggi vi faccio scoprire una chicca davvero davvero notevole Deck Skylands è un RPG isometrico in pixel art basato quindi ambientato in un mondo skypunk Cosa significa skypunk? Sostanzialmente è una sorta di futuro distopico dove le città sono volanti e ovviamente tra queste città ci andremo a muovere con velieri volanti che noi potremo guidare, ampliare, migliorare eccetera eccetera per cui vi garantisco questo gioco sarà una piccola piccola bomba è un gioco che esce all'incirca oggi o domani bene o male adesso non ricordo in versione Early Access quindi sostanzialmente non è ancora un gioco completo è un gioco che andrà sviluppato man mano che passa il tempo andrà implementato, andrà migliorato, andrà ampliato per cui promette davvero davvero tante cose è un gioco che ho già toccato con mano poco fa giusto per appurare appunto la qualità del contenuto e vi garantisco che sarà fenomenale purtroppo giocarlo 10-15 minuti non gli renderà giustizia però fidatevi è bellissimo prima però di scoprirlo assieme vi invito ovviamente a lasciare un like nel caso vi piaccia il video lasciare un commento per farmi sapere cosa ne pensate e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi a questo canale per scoprire chicche come questo e non solo e anche canale Twitch per esplorare a più approfonditamente questi giochi bene, Start New Game, il gioco purtroppo l'avrete già visto non ha la lingua italiana al momento ha circa 8 o 9 lingue ma non ha l'italiano io spero che un giorno arrivi perché effettivamente promette davvero davvero bene ed è giusto che più persone possono goderlo però non sono molto fiducioso perché come vi dicevo è un RPG quindi parlano, anzi in realtà ci sono molte molte scritte, davvero davvero tante sono semplici però è tanta roba da tradurre per cui onestamente speriamo bene io adesso cercherò di tradurre in tempo reale ma non aspettatevi miracoli perché un conto è capire e leggere e un conto è leggere, capire e tradurre contemporaneamente allora mamma, mamma, cara Eva, buon compleanno per favore prendi una sedia, la colazione è quasi pronta allora mamma, papà, no la nave di papà è al porto l'ho vista dal binocolo, o dal cannocchiale, adesso non mi ricordo cannocchiale credo sia papà è tornato, ce l'ha fatta te l'avevo detto che ci sarebbe riuscito in tempo hai ragione, tuo papà è in soggiorno però mi ha chiesto di non essere disturbato quindi papà sto arrivando come non detto, insomma papà andiamo a rompere le palle, tieni allora papà sei stato via così tanto tempo tipo un centinaio di anni o due centinaia mi sei mancato davvero davvero molto Eva, ma tua mamma non ti ha detto che sono impegnato? buon compleanno dove sei stato? cosa hai trovato? hai raggiunto il limite del cielo? anzi il bordo del cielo? hai trovato il padre balena? dimmi tutto con calma, con calma troverai tutto ciò più tardi alla fiera ma adesso ho un lavoro per te ho dimenticato una scatola nella mia nave per favore, si gentile vai e prendila ok una scatola va bene l'ammiraglio Richard comanda e il capitano Eva obbedisce salpiamo benissimo vi ricordo questo non ve l'ho detto prima che in questo gioco oltre al movimento via terra quindi come state vedendo adesso andremo anche a pilotare questi velieri volanti a potenziarli fare il rifornimento gestirli fare i combattimenti cioè in un certo senso è come Assassin's Creed Black Flag però in aria è fantastico fantastico prometti di essere fantastico allora RB to shoot your hook ah ok il rampino va bene quindi tac e andiamo su allora prendi la mystery box dalla cassa della nave e per aprire premi X poi seleziona la scatola e premi X per prenderla XX ok eccola qua porta la mystery box to Richard facciamo così ok vediamo che tasti ci sono qua per il momento niente perché abbiamo le mani impegnate metti lei il coso sul pavimento tiè parla a Richard vediamo la scatola è una pistola Eva questo è un regalo per te buon compleanno buon compleanno figlia mia oh wow che cos'è una pistola come un vero pirata non crederai quanto è stato difficile trovarla nessun altro in aspia ha una pistola come quella non più perlomeno grazie papà possiamo andare a giocare puoi essere my bosom like before non so cosa sia onestamente mi dispiace non ho tempo devo preparare tutto per la fiera degli obiettivi nel frattempo Eva tu mi aiuterai ho chiesto Aaron di prendere delle dei lamponi diciamo per la torta ma tuo fratello non è ancora tornato probabilmente è andato a giocare con gli altri cacciatori vai a vedere lo zio cane dovrebbe saperlo e in più ti può insegnare come usare la pistola allo stesso tempo per cui uniamo l'utile e dilettevole insomma zio oswald sei arrivato anche tu certo mia nipotina come posso dimenticarmi del tuo compleanno ecco il tuo regalo incredibile a moth a living one ah è una farfalla una vivente è così dolce grazie nonno penso tu sia vecchio abbastanza per avere il tuo la tua personale moth il suo nome è luma luma sei così incredibile vuoi andare a fare un giro ma cos'è il moth cioè che cacchio è quella roba lì vediamo ah è una farfalla che ci accompagna va bene ok prendiamo la pistola x benissimo to pick an object ok premi x possiamo sparare ma sono colpi veri secondo voi o è tipo giocattolo sarà giocattolo dai ah possiamo anche fare il melee e rompiamo le cose con cui prendere monete a quanto pare ah va bene possiamo parlare un po' con tutti full cos'è sta roba qua ah questo qua è la ricarica vediamo sono felice di essere un guadagnatore un earner non so cosa sia noi alleviamo intertive aspia feed intertive ah noi alimentiamo aspia e il commercio di risorse si ok ok adesso ci siamo capiti va bene vediamo 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 rompiamo un po' di cose andiamo da cane e vediamo che ci dovrebbe insegnare come usare la pistola anche se in realtà ho già capito insomma va bene cane eccomi qua allora crash no questo qua è crash non è cane che cosa abbiamo qui piccola una pistola giocattolo vuoi che ti faccia vedere una vera quella che fanno male le persone no crash stai spaventando la ragazza vai via prima che mi arrabbi e pensa a cosa stai facendo perdona il mio compagno Eva è uno sciocco un uomo malato non sprecare i tuoi proiettili su di lui oppure la tua pistola non spara penso spari ma non so come è carina vero papà me l'ha data zio cane spiegami cosa farne da quando io sono lo zio mamma mi ha detto di chiamarti zio dato che sei diventato il capo dei cacciatori vabbè se loro hanno detto così guardiamoci un attimo una pistola normale allora prendi la mira e tira il grilletto prova vediamo spara 15 volte e qua siamo a 10 dato che avevamo 10 colpi nel caricatore e poi ok ce l'abbiamo fatta molto semplice per il momento parliamo a Kane chi è che è un bel uccellino eh chi è così intelligente tu sei così il mio orgoglio e la mia gioia guarda il mio compagno più umato è orgoglioso di te ah il tuo falco sta crescendo forte e grazioso grazie Eva e battute a parte tu sei veramente un pistolero nato solo un occhio ma un occhio molto affilato molto insomma sgaio ecco giusto guarda potresti essere il primo cecchino mezzo cieco diciamo lo sai quest'anno ho messo su un campo di addestramento per i combattenti giovani come te vicino alla valle dei carpentieri oh scommetto che è dove Aaron è andato eh tuo fratello è ancora uno che corre tanto in giro vero oh va bene mi stavo appunto importunando ieri a riguardo del campo quindi queste sono cattive notizie per i miei ragazzi e le ragazze le andrei a salvare certo dobbiamo solo sistemare la nave di papà andrò a trovare lo zio Jim ok vedete è molto molto bello è veramente molto molto bello davvero bello cavolo buon compleanno eva come è stato papà è svanito per quasi un anno ha fatto preoccupare tutti e poi torna indietro in tempo per la fiera che tempismo ciao eva che cos'è quella una pistola davvero fammela vedere allora non so cosa Richard abbia portato indietro questa volta ma ma guarda come i suoi occhi sono ardenti ho come sentimento che gli Uzzinias non saranno in grado di competere con la nostra fiera quest'anno zio Jim forse potresti portarmi tu al campo dei cacciatori papà mi fa prendere la sua nave anche se hai bisogno di qualche riparazione certo fammi finire il mio lavoro torna fra un po' eva fammi smontare la tua pistola la rimetterò insieme te lo prometto ragazza forse dovresti darmi il kit di riparazione andrò a sistemare la nave e poi vado via che cosa ne dici stai scherzando eva papà sarà furioso per un po' poi si dimenticherà che l'hai fatto dai su che cos'è la vita senza avventura andrò là e tornerò indietro nessuno se ne accorgerà ah ok l'importante è che tu non lo dica mio padre tieni in pratica suo papà doveva aiutarmi a sistemare la nave io invece mi sono fatto dare il kit e la voglio sistemare da solo allora put the repair kit from the warehouse into the hold ok quindi qua e dopo faccio così perfetto tieni per molto x per riparare the sky ship ah qua ok perfetto e adesso parla con elsie ok perché non boh vabbè no cosa ma che cazzarola fermi tutti ah elsie è qua ok andrò a vedere dov'è Aaron al sawmill credo sia tipo segheria di borvan mamma ha detto che è andato là spero stia bene la nave probabilmente non ha il pieno quindi fermati alla stazione di carburante sulla strada ok grazie ragazza fly to the fuel station tac perfetto prendi il timone oh 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 allora speedometer ship ammunition in the old zero ship fuel bar a metà siamo più o meno si repair kits in the old zero ship health bar no i comandi dove sono finiti stavo leggendo la lida scalia o lì vabbè dai con A si va avanti esatto ok il che è una buona cosa guardate che bello che è qua è bellissimo da vedere bellissimo mi raccomando ragazzi seguitemi anche su Twitch se ancora non l'avete fatto e iscrivetevi al canale abbiamo abbandonato il timone e andiamo qua allora compra un canister che sarebbe praticamente una cisterna diciamo portatile premix anzi tieni premuto per comprarla ok riempi la tanica tanica è il nome che mi sfuggiva perfetto ok e poi adesso vai sulla nave qua tieni premuto x ah e stiamo facendo il pieno bene metti il canister nella stiva vai a parlare con Fang prendiamo il timone allora accelerate brakes shoot rotate cannons uila i cannoni che figata e look around con B bene mamma mia ragazzi ma vi immaginate un gioco del genere con la grafica di un ipotetico Final Fantasy quanto figo sarebbe un Final Fantasy Sky Punk porca miseria vabbè un domani forse allora boom mi sa che abbiamo fatto del danno alla nave sì sì perché l'ho visto calare la salute lì in basso va bene dai dovevo frenare un po' prima allora qua rompiamo un po' di cosine giusto per prendere delle monete ok e poi ah ok perfetto perfetto parliamo con Fang allora un altro giovane earner che è venuto a mostrare le sue abilità nessuno è ancora riuscito a battere il mio record comunque tuo fratello è qui ha provato a passare il test senza in incognito non lo so quel piccolo allora è entrato in una scatola e ce l'ha quasi fatta fino alla fine del test ma il ragazzo era troppo grande e si è bloccato nella scatola non l'abbiamo neanche tirato fuori dalla scatola una volta che hai fatto il test porto lì indietro con la con le navi di tuo padre insomma gli ingegneri possono capire come tirarlo fuori dalla scatola il tuo test inizia ora usa tutte le tue abilità Eva ma non riuscirei comunque a battermi find Aaron ok però preoccupante sta roba allora vediamo un attimo RB to shoot your hook e fin qua ok qua rompiamo se qua saranno monete per shoppare credo shoppare nel senso proprio non alla fortnite bensì roll of the ground oh porca miseria ah tipo così mamma mia o forse sono monete per il crafting chiedo che cazzo astardo ah raccogli aumenta la salute la rigenerazione per 90 secondi ah ok va bene e infatti ci siamo guariti vediamo se posso luttarlo no ah così facciamo il roll to dodge bullets ok carina sta roba carina davvero ehi 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 però vedo che ha una portata molto limitata la pistolina va bene dai bene e fin qua tutto a posto lit e lt formelia tex possono anche rompere le casse con un colpo solo benissimo allora dig up the crate with iron and bring it to fang che scemo che fratello scemo che abbiamo eh ah mi sa che dopo qua devo arrivarci vediamo chi è abbiamo fatto stealth più o meno eva eva sono qui nella scatola ce l'ho quasi fatta fino alla fine del test ero invisibile ed infermabile si si può dire no non si può dire comunque non fermabile però mi sono bloccato in questa scatola puoi portarmi da zeo gym il capo degli ingegneri troverà qualche modo per tirarmi fuori le mie non sento più le mie gambe sostanzialmente harvest iron ok carry iron ma va che mona che sei press x to flip the switch quindi appoggiamo per terra x e facciamo così ce l'abbiamo fatta mi sa eh direi di si rompiamo questo allora forza forza scemotto che non sei altro andiamo qua lo mettiamo giù parla con fang è sangue il giovane ha deciso di diventare uno di noi è solo vernice che tristezza hai trovato tuo fratello tiralo fuori dal buco e portalo a casa è tempo per i veri professionisti di allenarsi bene ragazzi io direi che qui possiamo tranquillamente fermarci diciamo che abbiamo scoperto una chicca davvero davvero bella e sicuramente merita vedremo delle belle cose da questo gioco garantito garantito iscrivetevi ai vari canali qui in parte seguitemi nei vari social se ancora non l'avete fatto e vedete se c'è qualche video nel frattempo che vi può interessare grazie e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti